ragazzi di buona mattina sono ammerate ehi 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 fermati un attimo visto che posso questo video te lo offro io e assieme al video ti offro la possibilità di capire quale sia la tua migliore scelta per avere caldo in casa con i migliori contributi e l'accessione dei contributi stessi vai direttamente al blog o nel link qui sotto e dammi la radiografia di casa tua compilando il modulo di preanalisi professionale appena mi arriva il tuo modulo tempo qualche giorno ti ricontato io un abbraccio ciao merate siamo in lombardia quindi vicino a lecco e ti faccio vedere quella che è il panorama che si vede dall'abitazione qua sono a casa di matteo sto eseguendo con l'installatore specializzato il secondo sopra luogo tecnico per andare a identificare tutti quei punti un po particolari che non devono essere sottovalutati prima di mer già passato un altro nostro tecnico aveva fatto il primo sopra luogo adesso stiamo facendo secondo sopra luogo ti faccio vedere un po quella che è adesso la sala termica attuale eccola qua quindi siamo in presenza di una caldaia a gasolio questo è il bruciatore gasolio una caldaia della termorossi facevano questo modello di caldaia anni e anni fa che poteva ospitare diverse tipologie di bruciatore al gasolio al gas al metano anche a legna e carbone in questa configurazione la caldaia funziona a gasolio poi matteo aveva messo anche uno scaldabagno elettrico semplicemente perché nel periodo estivo senza mettere sempre in moto la bestia si faceva e produceva l'acqua calda sanitaria con la corrente e un po a livello impiantistico questo è quello che si trova gli impianti matteo l'aveva rifatti poco tempo fa le vecchie tubazioni del riscaldamento erano queste sono state tagliate da matteo e tutta la parte di riscaldamento è stata poi prodotta con tubazioni nuove quindi questo è quello che adesso si trova in questa in questa abitazione impianto tutto alta temperatura radiatori in ghisa delle vere bestie te le farò vedere più avanti quando andremo a fare tutta la fase di lavorazione però mi premevo a farti vedere quello che adesso sarà termica qua anche il quadro elettrico un po tutto da rimettere un po a posto tutto quanto col protocollo biomassa evolution bene adesso vado su mi bevo il caffè insieme al tecnico e anche insieme a matteo che gentilmente ce lo offre e poi tra penso tre quattro settimane vedrai il video realizzato di questa nuova centrale termica qua a merate lombardia ok noi ci vediamo buon caffè ciao ciao ragazzi sono a merate adesso mi metto la mascherina perché sono super impegnato mai avrei pensato nella mia vita lavorativa e anche non lavorativa anziché portare le brioche di portare pubblicità occulta panini della mac donald agli installatori qui che purtroppo causa appunto di tutto questo blocco non riescono a mangiare va bene dai porto il tutto metto la mascherina e poi ci vediamo tanto siamo a merate e li vedo federico come mai nero così c'era un cammino un po pieno e io sono sempre sto sotto i panini ne abbiamo mangiati adesso c'è un po ancora di subbuglio qui in sala termica adesso si è proprio nella fase di lavorazione collegamento tra la stazione solare e il puffer poi una volta finito anche il lavoro ti presenterò cristiano nuovo installatore nuovo partner qui per la lombardia i suoi ragazzi beh eric ormai lo conosce un po da tempo e poi ti spiego un po la configurazione però una volta che siamo usciti un po tutti della sala termica ragazzi sono in dolce compagnia vero secondo te qui a merate funziona un impianto a biomassa complessa con resa all'acqua quindi caldaia pellet puffer per il riscaldamento di un'abitazione parecchio grande beh nel video di oggi cerco di darti una risposta a questa domanda e in più ti presento anche un nuovo partner installatore qui per una parte di lombardia pronti andiamo pronti andiamo pronti andiamo pronti andiamo